Una delle tendenze degli ultimi anni in Africa è l'impegno e direi quasi la post-colonizzazione però economica della Cina di quel continente, nel senso che al di là della famosa nuova via della seta, che coinvolge però soprattutto le parti euroasiatiche e comunque anche in parte quelle africane, c'è un grande investimento anche a livello di influenza politica e lobbistica, economico-finanziaria e quindi anche politica e geopolitica della Cina in Africa. Ebbene, curiosamente è anche questo che viene messo in scena dal film Black Tea di Sissako, Abdes Aman Sissako, regista nel 2014 di Timbuktu, uno dei maestri del cinema africano, nato di Mauritania, in realtà regista maliano, quindi soprattutto di quel tipo di nazionalità, uno dei registi simbolo comunque del cinema africano, che al Festival di Berlino presenta appunto questo film che mette in comune queste due realtà e lo fa da una parte nel continente africano con un prologo in cui c'è una donna che dice di no, creando scandalo durante una cerimonia nuziale, dice di no al matrimonio, il famoso discorso vuoi tu prendere? Lui dice sì e lei dice no. E poi la vediamo perché insomma dalla costa d'Avorio dove si trova e da questo scandaloso no, poi si trasferisce in una realtà di Guangzhou nella Cina a confine con Hong Kong, nella Cina meridionale, in un luogo di emigrazione, di diaspora africana che si chiama Chocolate City, in qualche modo spostandosi appunto in questo curioso quartiere di minoranza africana, nera, all'interno della Cina. Quindi insomma ci si mettono in comune due realtà così diverse, perché poi lì piano piano lei in questa realtà si avvicinerà a un luogo in cui si consuma il tè con la cerimonia del tè e inizia una tenera storia d'amore con un po' più agé, un signore un po' più agé cinese che è proprio il proprietario, il cultore con il quale possiede questa grande scienza appunto del tè e della sua cerimonialità e della sua cerimonia. Ed è interessante perché insomma è un film da parte di un regista insomma di una certa età e con un certo stile, ecco. Ebbene mette a frutto questo suo classicismo e questi suoi ritmi dilatati, innanzitutto affrontare una realtà diversa, che è appunto quella cinese rispetto a quella africana che ha raccontato tante volte e poi anche nel raccontare in realtà qualcosa di molto contemporaneo, come l'amore non codificato e classificato. Quindi insomma in questo caso c'è questa bellissima immagine di una donna nera molto scura e di un uomo cinese con lineamenti molto diversi, ma ci sono in generale molte variazioni e declinazioni di perbenismo che vengono denunciate. E in questo è un film libero, piacevole, una boccata aria fresca all'interno appunto di un mondo che sempre di più, anche in quella realtà africa e cina, tende a richiudersi un po' grettamente all'interno invece di steccati e di abitudini di interpretare l'amore e in generale i rapporti sentimentali e familiari in maniera codificata. Per cui ecco, un film che richiede un po' di attenzione, un po' di pazienza, un po' ingarbugliato anche nella sua struttura che però piano piano appunto rievoca poi con una bellissima sequenza prefinale, rievoca un pochino come una morale appunto di un fuoco di bivacco notturno di antica saggezza, rivela in realtà quello che tutti vediamo talvolta, cioè uno schermo o meglio uno specchio che ci pone di fronte ai pregiudizi e di pregiudizi ce ne sono tanti in questo film e questo film, questo Black Tea, in realtà è tè nero con una varia e dublice, almeno dublice valenza, è sicuramente un buon film che piace a tutti un po', è un po' potrebbe essere anche il minimo comune denominatore perché ha un buon messaggio, ha comunque una buona storia di antica saggezza, dei bravi protagonisti, per cui insomma ha tutto come dire per piacere a livello internazionale, questo film di Sissako, appunto, Black Tea.